Musica Ciao, sono Besmira. E io sono Bianca. Precontiamo il primo anno del corso Acconciatura Cividale. Questo è il corso giusto per chi vuole diventare un parrucchiere professionale. Ci occupiamo della cura dei capelli per uomo e donna. Qui impariamo ad accogliere i clienti e a consigliare i servizi più adatti. Eseguiamo lavaggi, messi in pieghe, trattamenti coloranti e decoloranti, permanenti e acconciature per ogni occasione, oltre ai vari tipi di taglio. I nostri azzezzi del mestiere sono phon, spazzole, ferri riccianti, piastre e tinte e vari prodotti per il benessere dei capelli. Le materie principali del corso sono colorimetria e cosmetologia, ma sono fondamentali anche comunicazione e gestione del cliente. Per chi vuole fare questo lavoro, infatti, è importante interpretare i desideri del cliente per consigliargli uno styling più adatto e offrire una vera e propria consulenza di bellezza. Alla fine del percorso possiamo lavorare in saloni di acconciatura, centri spa, negli hotel e villaggi turistici, ma anche nei backstage di eventi. Possiamo specializzarci nel taglio maschile e femminile e nelle varie tecniche di colorazione e acconciature per eventi. Consigliamo questo corso a chi ha creatività, senso estetico e capacità di ascolto. Look e styling sono la tua passione! Diventa dei nostri! Ti aspettiamo!